L'istituzione del nuovo reparto porterà delle nuove strutture e quindi darà la possibilità di fornire dei servizi in più e di migliorare ulteriormente la presenza dell'arma sul territorio. È l'obiettivo del tenente colonnello Alessandro Andrei che ha assunto il comando del nuovo gruppo dei carabinieri della provincia di Barletta Andrea Trani. Il colonnello di origini toscane ha una lunga esperienza nelle compagnie territoriali di Roma, Sanremo e Giuliano in Campania. L'istituzione del gruppo che resterà per alcuni mesi ancora in capo al comando provinciale di Bari è il primo passo verso la costituzione di un autonomo comando provinciale nella BAT. Avrà competenza su dieci comuni dell'attuale provincia inglobando quindi anche quelli che dipendono attualmente dal comando provinciale di Foggia cioè Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia ma perdendo due comuni che confluiranno in quello di Bari, Ruvo di Puglia e Corato perché rientranti nell'area metropolitana del capoluogo pugliese. Oltre a quello dei carabinieri che avrà sede a Trani si attende l'istituzione del comando provinciale della Guardia di Finanza a Barletta e della Questura ad Andrea. I nostri presioni siano perfettamente aderenti a quella che è anche la realtà territoriale, l'amministrativa del territorio per dare risposte più aderenti a quelle che sono le problematiche e i problemi del territorio per consentirci di operare sempre al meglio offrendo un servizio alla cittadinanza sempre più qualificato.